Alberto Cisolla, una leggenda della pallavolo italiana, Argento fra l'altro ad Atene 2004, un commento, un giudizio sulla Calzadonia Verona? Beh, non posso che dire un giudizio ottimo, sapevamo che la differenza con noi è enorme, però ho visto una squadra molto equilibrata, molto sistemata a avere in campo, con delle individualità importanti, Mattei è sempre una garanzia, Boyer fisicamente veramente molto dotato, ragazzo interessantissimo, però la cosa che mi ha stupito di più è l'equilibrio, lì si vede la mano di Mr. Gerbic che conosco da tanto tempo, che di sicuro fa lavorare in un determinato modo e il risultato si vede. Hai avuto modo di conoscere in carriera tanti giocatori e coach, in questo caso come Gerbic, presenti oggi, che effetto ti ha fatto ritrovarli? Fa sempre un effetto strano perché con tanti purtroppo ci ho giocato assieme e loro adesso allenano, è un campanellino d'allarme importante, ma a parte quello fa sempre un piacere enorme, lo dico sempre che quando ci troviamo in questi posti è sempre una cosa molto molto positiva e fa molto piacere vedere altri che, anche se in ruoli diversi, continuano a ottenere successi e traguardi importanti. Lunedì la Cazzogna affronterà Trento, che partita sarà secondo te? Una partita molto dura, per quello che ho visto, Trento è una delle squadre che gioca la pallavolo più bella, forse rispetto alle top four, chiamiamole così, è quella con meno individualità, ma è una squadra molto molto tosta, quindi sarà dura per Verona, però sono le classiche partite dove secondo me non c'è niente da perdere, si riesce a scendere in campo un po' più rilassati e magari sono quelle dove escono le migliori cose.